C'ho un giochino bellissimo io adesso ragazzi Allora ci ho messo 4 ore tra ieri e oggi a farlo Non ancora non lo capite, ho fatto il gioco Allora praticamente è un coso a turni Dove dobbiamo replicare una frase o una parola o quello che dice il protagonista che vedrete all'interno di questo gioco Chi lo replica meglio fa più punti tra noi quattro Sarà un turno a testa, è molto più facile da vedere che da spiegare Ok perché non ho capito un cazzo Partiamo con tre turni Lui è il presentatore Come lui è il presentatore? Lui è il presentatore? Volete entrare nel mio esercito? Lui è il presentatore del minigioco Facciamo un giro che fa E questi sono i partecipanti Ma che cos'è questa roba? Ma cosa sto vedendo? Ma che cos'è il camicio? Ma che cos'è stu foto? Ma questa signori è la giuria Ma che cazzo è? Enzo Paolo Turchi, Guglielmo Mariotto, Gargamella e Gatto Infuriato I 5 giudici Calma calma Gran soleiii Il nettare degli dei Gran soleiii Gran soleiii Il nettare degli dei Però è partito male Vi conviene partire un po' prima Perché c'è il direi per forza di Discord Non ci posso fare nulla Forza tua? Io so Tocca a te Gran soleiii Il lettare degli dei Gran soleiii Il lettare degli dei Adesso vediamo Ottimo Gran soleiii Il nettare degli dei Gran soleiii Il nettare degli dei Gran soleiii Il nettare degli dei Vai daiiii Vediamo subito I giudici che cosa hanno da dire Attenzione sul mio Bimboago me lo prendo subito 3 voti Oddio 3 voti C'è Bimboago Io voglio quello denso Paolo Turchi Ah pure abbiamo 3 voti Buonissimi Però Guglielmo Mariotto Non te l'ha dato Guglielmo Mariotto Ragazzi Gargamella Cattivizio Bravi Io voglio quello Del bimboago No Fabio Solo due Ma non è giusto Sei una merda sei Porco di Dio Scendi Scendi Questo Porco di Dio Scendi Scendi Porco di Dio Scendi Scendi Non ridete Gargamella Non ridete Quando tocca a un altro Non ridete Devo ricordare come l'ho detto Porco di Dio Scendi Scendi Ma che è questa voce tripla Che riesce a generare Dalle tue corde vocali Ma che problemi hai Tocca a mollo Porco di Dio Scendi Scendi Porco di Dio Scendi Scendi Gargamella se lo prende Gianco Scendi 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 Mamma mia Fabio più denuoti è furto Lo dico Vediamo subito Attenzione Sono due Bimboago e Gargamella Io gioco in casa Gioco tre E danno in arco Ho drogato di merda Perfetto 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 C'è un lavoro turchi Non da un voto Manca a pagare Il ministro Ma mi sono avuto fa Sono tanti punti Che motivo Che culo è ok ok let's go ok let's go ok let's go porco di il maestro è perfetto ok ok let's go ok let's go ok let's go ok let's go no il mio è finito ok let's go ma che l'ho fatto bene ma vaffanculo è già godiatissimo ma non è possibile prego ma questa è l'ultima è in buco e cacca bella dammi il 4 eh eccolo 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 eh sì sembra che il vincitore di oggi è giocatore eh non sapremo mai perché c'è la mia testa su quello non ne ha preso i nuovi voti raga ma non vuoi da un nome ai giocatori Gianco? eh sì hanno pareggiato mollu e messo sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi madooooo sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi sì ma sì a me comunque mi ruba sempre eh c'è frate sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi nooo fuori tempo fuori tempo l'ho fatto malissimo sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi ma Gianco si sente in tipo è bravo a parole ma con i pugni come te la cavi vedi che ci taglia a tutti i realtà sei bravo a parole ma con i pugni come te la cavi sono l'ultimo eeeh madonna l'unplen ma brutto gatto de merda poltudio ah un altro l'altro devo pareggia devo pareggia nooo guglielmo pezzo di merda guarda è bimbo ago cattivissimo stavolta per aver pure l'altro thank you wow 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 una mezza sporadina però questa è buona questo è un gatto che sta 5 stelle vedo che se via e fabbio quale è tu leghi la da dai ma dai ma me serviva niente ultimissimo porco ok non la santa ai 3 secondi per uscire da sostanza ds che mi hanno delancato sta zitto dai 3 secondi per uscire la stanza ds porco dio regato perso amo prenderlo nel culo e lo prendo così duro che mia madre spacca il cazzo pure al vicino di casa era così però ma voglio fare una prova c'è i tre secondi per uscire da sta stanza ds che mi hanno delancato stai zitto dai 3 secondi per uscire la stanza ds porco dio regato amo prenderlo nel culo e lo prendo così duro che mia madre spacca il cazzo pure al vicino di casa che il maestro sta preciso a livello anche dei tono ai secondi per uscire da sta stanza ds che mi hanno delancato stai zitto è vero in realtà fa virtù era buono è buono buono buonissimo questo è un voto da giuglielmo uno cos'è sta mafia ma stiamo nella merda biologico 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 c'è quello che gianco 2 e per migliore dovete morire cancro porco dio sti tu mori di merda zio porco oh scuglie ma vaffanculo va buono estremista eh ma tu hai fatto quel 5 all'inizio che era inequiparabile bro la porta a casa il junkie stazio e tempo i voci a cui non ha dato ragazzi ma proprio quella devi vincere una volta dei ragazzi ma perfetto già una volta da ragazzi anche una volta da ragazzi beh già nella una volta da ragazzi anche una volta da ragazzi vabbè o bimbo agomo è buono ma gianco gianco prende i decibel perché c'ha il volume altissimo poi l'alcol tocca rimanere sulla scia ah dammi 4 ahahah mi ha dato 2 è un 2 buono buono il coltello è veloce se uno ti vuole accoltellare ti accoltella no 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 non ha capito che cosa ha detto il coltello è veloce se uno ti vuole accoltellare ti accoltella mmm il coltello è veloce se uno ti vuole accoltellare ti accoltella alla fine è buono alla fine è molto ottimo è veloce si vuole accolt 되는 la montagna e pewno troppo il coltello veloce se uno ti vuole accoltellare ti accoltella il coltello è veloce se uno ti vuole accoltellare ti accoltella forse gianco vuole anche il nota il coltello è veloce se uno ti vuole a coltellare di a coltella per cortelle veloce si vede una cortella da corte coltello è veloce se uno ci vuole a coltellare di a coltella 3 ho detto e giuro porco diosica che non poterà anche qua godo del tre me lo meritavo cazzo qua quattro momenti da torna quando sarai più ricco torna quando sarai più ricco torna quando sarai più ricco porco dio rega sto tutto desincato io ma perché torna quando sarai più ricco torna quando sarai ricco torna quando sarai più ricco torna quando sarai più ricco torna quando sarai più ricco se sente la tristezza se prendi se prendi due stelle si c'è madò si gode cimitero totale bello madonna sbordiamo orco diosica scusa che dici ma non lo so da metter in derk le scirocchia da paura da metter in derk le scirocchia da metter in derk le scirocchia la metter in derk le scirocchia con le cino porco 22 gianco a me me danno zero regà ragazzi io esi con quattro almeno eccolo dai era in casa le annaffia mento e dice le annaffia mento vabbè gianco tutti ti hanno tolto all'africa da piccolino le annaffia mento le annaffia mento le annaffia mento marzo questa è ottima per 2 stelle buonissimo le annaffia mento le annaffia mento porco dio le annaffia mento le annaffia mento via devo rubare l'ultimo gianco una stella in più di gianco devo prendere ma che cazzo devi fare ah 2 ho capito 3 stelle e vinco io e porco dio è tanto guarda manco così no bro questo l'ho killato gianco fortissimo signori in effetti già le annaffia mento se il giocaster fosse audio avrei messo senegal l'ho